Ieri non ho sentito le cose dette dal Premier, ho sentito soltanto quando si è avvicinato a me, Presidente come sta? Infatti ho risposto, sono bene in salute e benvenuto qui. Ho appreso poi nel pomeriggio dai social della performance che era cominciata qualche metro prima, ma non avevo sentito sinceramente. Ho appreso dai social della raffinata eleganza con cui si era avvicinata al Presidente della Regione che era lì per accoglierla e darle il benvenuto. In ogni caso ho visto che ci ha tenuto la Meloni a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare ovviamente. Le performance organizzate a tavolino sono francamente fuori contesto e fuori della realtà del nostro paese, ce ne potremmo risparmiare. Ieri mi sarei aspettato innanzitutto una visita a Brescia, una data simbolo per il nostro paese, perché i campetti di Caivano si possono inaugurare in qualunque momento, quell'anniversario o no. Quindi sarebbe stato doveroso innanzitutto andare a Brescia a rendere omaggio ai caduti, a riconfermare l'impegno contro il neofascismo che ha tormentato l'Italia per decenni, tanto per cominciare. Poi decida il suo programma il Presidente del Consiglio. In ogni caso io dedicherò i miei pensieri più approfonditi all'onorevole Meloni il venerdì prossimo, sapete che ho un incontro televisivo, quindi faremo tutti gli approfondimenti, partendo dall'oltraggio vero che non è stato colto dall'opinione pubblica in Italia, che è l'oltraggio commesso dalla Meloni contro 550 sindaci il 16 febbraio a Roma, che sono stati intimiditi, controllati all'uscita dell'autostrada a Roma sui pullman che erano diretti a Piazza Santa Apostoli, spintonati, bloccati a via del corso, offesi, oltraggiati dalla Meloni con un comunicato ufficiale. L'unico insulto che c'è stato nella vita politica di questo Paese è quel comunicato della Meloni che offendeva 550 sindaci che erano a Roma per protestare contro il blocco delle risorse e che combattevano per aprire i cantieri e creare lavoro, ma l'opinione pubblica del nostro Paese è interessata più del cabaret, delle parole, dei furionda, delle scemenze che delle questioni sostanziali. Il problema sostanziale è che allora è cominciata una deriva democratica nel nostro Paese. Non si è mai visto un governo che oltraggia 550 sindaci, che chiude le porte dei ministeri, che se ne scappa e si rifiuta di ricevere anche una delegazione. Quello è l'insulto vero di cui non ha parlato nessuno e di cui io parlerò fra qualche giorno, ricostruendo tutte le vicende, se non altro per far maturare una coscienza democratica e e per svegliare un Paese che mi sembra un po' narcotizzato, che non ha capito ancora bene la deriva verso cui si avvia l'Italia, proprio dal punto di vista della vita civile, democratica, del rispetto delle regole. Poi avrò il piacere di ripubblicare quello appunto di Silvio Berlusconi, dedicato all'onorevole Meloni, che mi pare una sintesi molto appropriata.